Ciao amici Ben ritrovati con questa bellissima serie Sul Pokemon Platinum Ok, ciao a voi Salutiamo intanto Pedro Che l'ultima volta mi ha fatto imprecare come pochi Ebbene Qualcuno sta rubando cose da me E io di catturare un Bidouf per spaccarocce Oh giusto, proprio quello Proprio quello Allora, tu stai zitto e apro le domande Ciao, bell'occhio Allora, Simone Olla chiede Ciao Paoli Perché andavate sempre a casa di Zia Gina per bervi drink? Tu hai tirato fuori cosa che non avresti dovuto tirare fuori Esattamente, è un passato oscuro che non deve essere mai svelato E non so come ti faccia a saperlo Però lo sai a quanto pare Quindi non dirlo agli altri Dovremmo farti sparire Esatto Poi Freedom33 chiede Cosa ne pensate della saga di Dark Rising? Che fa schifo Tanto Sì È una B-Sharp inglese Oh, la tocca pianissimo Cosa ne pensate dell'anime dei... Cosa? Non ho capito Puoi ripetere Cosa ne pensate dell'anime dei finger spinner? Dei finger spinner? Scritto così Non ho capito Non lo conosco Ah, non è la best waifu Certo Sì Little Eeeh Rowlet mi spiace Cresimano chiede Che ne pensate di... Melagda? Esatto 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 Sì Quanto vi piace fare emblemicos Shadow of Valencia? Tanto Eh, io non ci ho giocato Mi dispiace Quanto hai figli di puttana Berkat? Tanto Mirvo No, Paco Pensavo avessimo qualcosa di speciale Invece mi tradisci Per lagging poi Sì, mi spiace Mirvo È così Darky701 chiede Meglio il Lucas di Platino O il Lucas di Mother 3 Beh, io direi che è meglio Lucas di Mother 3 Perché lui è il Memelord È un per cui lo rende Superiore a qualunque cosa Deglia Margarito chiede Cosa ne pensate Del ventesimo film dei Pokémon? Penso quello Pokémon I Choose You Oddio Allora Non c'è Brock Quindi 0 su 10 Di Misty Chi se ne frega Ma Brock Sai Beh, non dà che Misty Interessava Perché Faceva la controparte Di Ash Però Volevi vederla Magari con un restile Moderno Sì, beh Il personaggio Che le hanno Cioè, gli hanno messo Nel reboot Fa veramente Schifo Qua vabbè Ok A P-Plat Quindi Ok Però Visivamente Fa cagare Poi 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 Chiede Chiede Un 3DS Che non ho mai Smesso di sognare Goldfox Goldfox Cosa ne pensate Delle baccarance Che all'inizio sono buone Esatto Ok Faraday Cosa ne pensate Di Aspetta Cosa ne pensate Di Super Saiyan Marf Di Fire Emblem Il musical Che è il Super Saiyan Blu Was leaked years ago Ancora prima Di Dragon Ball Super Per poco Non ho scelto a Bobidou Quando mi serve Poi E lo chiamerò In onore Del nostro amico Ma Nel Mon Non è il mom Non è la mam Nel mon Ok Comunque Ultima domanda Del fedele lag In Walrus Volete una Degam No Preferisco Le Big Bang Ok Sono finite Le domande E adesso Andiamo Aspetta Che c'ho I Wolotex Di Lucinda E Rowan Che Mi stanno dicendo Che la gente È cattiva E che Tratta male I Pokémon E Dai Stavo pensando Quanto sarà divertente Stirare Purulai Perché? Perché io Monferro Ah Oh Cazzo Vabbè I Oshinx Con prepotenza Che diventerà un luxio Per Quando sono Al Ah Te diventerà Ah Sì Sai Ho avuto Qualche problema Con Pedro Questo perché Stai schifo Stai zitto Allora Devo andare Prima Limpianto Tu Però Prima Prendo le bacche Oppure chiamalo Baywatch No Mi è venuto in mente Adesso che avrei potuto Chiamarlo Hierophant Green Perché sai Emerald Splash E Torna a Giubilopoli Allora Natura decisa Che culo E qui si salva Fortissimo Ti odio Ti voglio bene Anch'io Non osare Entrare Nell'impianto Turbine E ho perso Mi chiudo Nell'edificio Ti dico anche Dove si trovi La turbo In chiave Ho vinto Io Ho vinciuto No No Ho usato Super suono Sgancia Il miele Ci serve Per attirare I pokemon Cosa fai Col miele Lo spalmo Sugli alberi No Ok Aspetta un momento Acto 3 Frisa 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 Dai su Dammi Quello schifo Di coso Quei manigordi Volevano rubarmi Il miele Attenzione Oibo Questi listofanti Come se fosse il petrolio Oibo Questi listofanti Volevano appropriarsi Del mio bene Più prezioso Miele Chi è Winnie the Pooh Allora Ora Non insultare Winnie the Pooh Che è qui Io Luxio Evviva Ah 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 Tutti i tuoi desideri Sono Ah Ah Mi dupo imparare anche taglio Giusto Certo Perfetto Altri Pokemon Oltre a Paragli Per caso Zuba Ah Va bene Ok Qui sono accadute tre cose Che non vanno Uno Con scintilla Paralizzo Paragli Due Con il colpo successivo Faccio brutto colpo Lo uccido Quando mi avrebbe più lui Terza cosa Riceve 666 Punto esperienza Shottato Cattivo Dai Bellocchio Muovi il culo Adesso Riesci col cacciavita Sonico Ci hai provato Ammettito Ok Cazzo Avanti Male nel mondo Renditi utile Ti finirò Con Sempre ci ripeto Esce sempre A secondo Dondolio Fottiti Ti vuole bene Insomma Tantissimo Ho ancora due Pokeball Quindi se non ci riesco Succa No Ce l'ho fatta Perfetto Non che sarebbe Usci Sì Sì Swag Perfetto Ci sta Voilà Swag Lumaca Eh poco Dove sei? Ho appena finito L'impianto Turbina Ah Tu Dimmi dove sei Ti sto aspettando Danti al bosco Vabbè faccio anche Finiamo qui E intanto Mi Appropinco Un poco Sei lento No È che l'emulatore È lento Questo è perché È un computer Di merda Allora Non darà colpa a me Beh in realtà Sì No Sei tu quello povero Dammi due o tre mesi Avrò un computer Decente Adesso Voglio tutti Nei commenti Hashtag Paco Che schifo I poveri Con la Y Datemi due o tre mesi Poi ne riparliamo Tranquillo Ciao 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 Grazie a tutti.